La terza giornata di Serie D presenta non solo quattro derby tutti pugliesi, ma soprattutto una sfida che ha già il sapore di spareggio promozione. Al Capozza si lanceranno il Guanto, il Casarano e la Fidelisandria. L'avvio dei Salentini non è stato esaltante, ma i federiciani non si fidano e sanno in cuor loro di dover affrontare una delle formazioni più quotate per il salto di categoria. Una partita di cartello che inizierà alle 15 e che noi trasmetteremo in diretta sul canale 92. Alla stessa ora il Bitonto farà visita nel Cilento al Santa Maria. Affascinante anche l'altro derby tutto pugliese tra il Barletta, che ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Marilungo, e la matricola Gallipoli, che ovviamente non vuole essere l'agnello che va al sacrificio del Puttilli. Tra le squadre che guidano la classifica c'è anche la team Altamura, che ospita la Palmese, un'occasione per continuare la striscia positiva dei risultati. Anche la matricola Martina Franca è a punteggio pieno. I Tarantini saranno impegnati contro Rotonda, che sta stupendo le avversarie con le sue due vittorie in due partite. Scorrendo il programma spicca la sfida incrociata tra il Gravina e il Nardò, squadre che al momento hanno un solo punto in classifica. Alla ricerca del primo punto in Serie D, la neopromossa Manfredonia che calcherà il difficile terreno del curlo di Fasano.